Un ringraziamento mi preme farlo a tutti i candidati, a tutta la classe dirigente di Fratelli d'Italia, un percorso bellissimo che ci ha portato in questi dieci anni ad essere il primo partito d'Abruzzo e il primo partito a livello nazionale ed è un dato che ci onora sicuramente ma anche ci responsabilizza. I dati in Abruzzo parlano chiari e sicuramente Fratelli d'Italia riesce a dare un distacco. Qualcuno parlava di chi poteva essere il primo partito in Abruzzo, qualcuno diceva che ci poteva essere un testa a testa tra noi e il Partito Democratico, così non è. Stando a quelli che sono i dati, ovviamente poi la riflessione più analitica verrà fatta domani, ma il divario è molto ampio. Un lavoro certosino che ha iniziato da tempo, quello di Fratelli d'Italia, che ha saputo accogliere amministratori, ha saputo lavorare. Insomma dal 2017 un po' tutto è partito qui all'Aquila. Sì, con una scommessa quella di Biondi sindaco, da lì abbiamo dimostrato che Fratelli d'Italia non era semplicemente un gregario del centrodestra, ma gli uomini di Fratelli d'Italia che sono tutte persone che vengono da un'esperienza, non c'è nessuno di noi che si improvvisa in politica. Abbiamo tanta strada alle spalle. Abbiamo dimostrato di poter costruire un partito e costruire un partito pesante, cosa voglio intendere. Troppo spesso si è parlato di partiti leggeri che duravano la durata di una legislatura. Noi invece stiamo cercando di costruire un partito fortemente radicato sul territorio, con amministratori e tutto questo lavoro che abbiamo fatto in questi anni ovviamente sta dando i frutti. Ovviamente guidati da una eccezionale Giorgia Meloni che è riuscita con la sua serietà, la sua coerenza, a diventare punto di riferimento per milioni di italiani. Ecco, diciamo che i sondaggi che c'erano stati poi il dato è confermato. C'è qualche dato anche degli altri partiti che l'ha un po' sorpresa, che non si aspettava? No, nel senso i dati si commentano alla fine. Si può soltanto leggere una tendenza e francamente se riavvolgiamo il nastro a qualche settimana fa nessuno pensava che per il secondo posto ci sarebbe stato un testa a testa tra PD e il Movimento 5 Stelle. E questo dimostra proprio come, ma anche questo lo avevamo annunciato proprio a una trasmissione Rd8, che il Partito Democratico ovviamente dovrà ripensare tutta la linea politica. Perché ad oggi vedere contendersi il secondo posto con il Movimento 5 Stelle dimostra come il Partito Democratico in Abruzzo si è arrivato ai minimi storici.